Buona giornata a tutti. Io sono il buon pastore, il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Gesù ci dice qualcosa di Lui, di come possiamo riconoscerlo. Credo che tutti abbiamo in mente questa immagine in cui Gesù porta nelle sue spalle la pecora, in un atteggiamento di protezione, di amore, di cura, di commozione, quella commozione che il Signore ha per ognuno di noi. Gesù è qualcuno che vuole che noi ci sentiamo protetti da Lui, per cui la sua custodia è personale. Infatti dice che noi siamo Suoi, cioè dice le mie pecore sono nelle mie mani e nessuno può strapparli da me. Noi tante volte siamo quella pecora sperduta, quella pecora perduta, per cui il Signore lascia le 99 nell'ovile e ci viene a cercare e finché non ci ha trovato non ritorna all'ovile. E ovunque noi ci possiamo essere nascosti, ovunque noi ci possiamo essere rifugiati, spaventati, Lui arriva fin lì, perché ci sta cercando. E finché non ci ha trovato non molla. Siamo davvero amati così, siamo preziosi. Ai Suoi occhi siamo una meraviglia stupenda. Noi apparteniamo a un pastore così. Con Lui siamo al sicuro. Possiamo quindi calare le nostre difese. Il lupo arriverà, quindi vivremo tante fatiche, preoccupazioni, prove. Ma l'essenziale, quando è consegnato a Cristo, nessuno può toccarlo, nessuno può scalfirlo. Noi tutti rischiamo di vivere la vita alle dipendenze di un mercenario, di chiedere a Lui qualcosa che non può dare, ovvero la Sua protezione. Per il mercenario noi rimarremo sempre degli estranei. Noi invece non siamo degli estranei rispetto a Dio. Noi siamo conosciuti e amati. Buona giornata a tutti.